Ciao a tutti amici di Marinoski, siamo di nuovo su Dead by Daylight dopo il gameplay precedente e vincente Chi non l'ho visto può trovare qui sopra in alto a destra il consiglio per andarlo a rivedere Insomma la targhetta, come si chiama, la scheda, la scheda, la scheda Allora, in questo caso cambiamo sopravvissuto, mettiamo Meg Thomas, che non abbiamo mai utilizzato, che non ho mai utilizzato Così vediamo un po', ah non ci abbiamo proprio nulla, giusto, questa cosa non la ricordavo Non ci abbiamo nulla, semplicemente si parte senza nemmeno un oggetto, proprio così, proprio alla buona E vediamo un po' di cavarcela e farla soprattutto livellare, insomma Ah, una cosa che possiamo fare sì, è proprio quella di farla crescere Di farla crescere, prima magari dell'inizio della partita Questa cosa non l'ho mai messa nei gameplay, nel senso la crescita del personaggio Come potete vedere è una sorta di tela, insomma, ragnatela In cui andare a sbloccare poi dei potenziamenti Vediamo se qualche potenziamento possiamo già metterlo fin da subito Allora sì, mettiamo subito questa competenza qui Che ci rivela fondamentalmente la posizione del killer, l'aura del killer, eccetera E... ma io direi di partire subito, dai, partiamo subito Speriamo anche in questo caso di avere fortuna Ma soprattutto di partire in 4, non in 3 Perché comunque sia... un survival fa a dispetto di un generatore meno Quello senza dubbio, insomma La partita sta per iniziare, ci vediamo tra qualche secondo Miniera del soffocamento, la tenuta Macmillan Sempre stessa mappa, mi sembra, oppure no Queste mappe le confondo, insomma Tranne quella della casetta rossa La casetta... sì, foresta rossa Mi ricordo che cavolo era quella nuova, insomma Però le altre le confondo tutte Allora, vediamo un po' di fare qualcosa di buono Anche oggi, anche oggi, anche oggi Altrimenti collage di gameplay Per farne uscire uno buono, per così dire E che dobbiamo fare? Madonna, tutti qua Stiamo perdendo tempo invece di andare a fare Quei cavolo di generatori Tanto il killer chi sarà questa volta? Chi ci terrà compagnia per i prossimi minuti? Tanto qua già inverno qua Già siamo in inverno Eccolo qua Allora, un generatore Aia Già arriva? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Uh, oddio, questo sta... Uh, il liscio Il liscio più che... Ah, no! No, e dai, ma non sotto sto manco Io non vedo niente, non vedo niente, nulla Vabbè No, ho sbagliato Guardate che... Ma questo... C'ho avuto un culaccio Del momento c'ho avuto proprio... Però tanto... Il mio destino è segnato, ragazzi Perché questo corre come... Come un dannato Corre C'ho avuto Una cosiddetta Fortuna spacciata Spacciata Proprio questo termine Spacciata Sì, però Devo un attimo rimettermi in riga O questo non si scherza Con sto killer Questo killer, ragazzi A parte gli scherzi Non si scherza, però Eh, a parte gli scherzi Non si scherza, però No, no, no Bisogna Operare in maniera Consapevole Oh, curami Oh Oh Thomas Portalo, portalo Thomas Portalo Eh, ma Potete dare in calcio Purtroppo non c'è l'opzione Ma cura Oh Ya E curatemi Disgraite Non mi che mi curavano questi Guardali Eh, mo tutte e due E mo questo torna Mo tu l'ha appeso Quell'altro Dove sta? Non l'ho appeso Comunque mancano Quattro generatori E io fondamentalmente Non ho fatto niente Allora Dove tocca vedere Se il killer camper Oppure no Da qua mi vede Lo sto attento Che il killer Praticamente ora Fa una sorta di rito Per terra E se io ci passo sopra Escono diciamo Delle sue copie Fondamentalmente Intanto gli altri Sono stati Per così dire Scovati Salvalo 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 Oh E salve No Ho acchiappato Pure Quello Ho acchiappato Immaggiamo Immaggiamo E togli Dai Dai Scendi Dai cacchio Eh mi sono preso Una zaccagnata Per colpa tua Inciuoto No scheda piena No Ragazzi è successa una cosa La webcam Ma praticamente Ho la scheda piena E si è interrotto Tutto Quindi questo gameplay Mi dispiace dirlo Mi dispiace dirlo Continuerà senza La mia faccia Ed è buona cosa Perché comunque Non so se state vedendo La partita sta proseguendo In una maniera Proprio brutta Brutta Brutale Perché qua So ferito io E sono stato ferito E questi altri qua Curatemi anche a me Comunque non penso Sia mai successo A Penso se è successo A qualche altro Diciamo creator Di video Di togliere la Incredibilmente Partita in corso La webcam Perché Aspettate un attimo Che mi ha acchiappato Amico Mi ha acchiappato Mi ha acchiappato Eh Dicevo togliere la webcam Mentre gioco Perché Probabilmente L'SD C'è scritto SD piena Appun così Non penso sia mai successo Ma C'è sempre una prima volta La prossima volta Insomma Cercherò di controllare Meglio questi aspetti Qui Però Può capitare Insomma L'importante è che ci sia La registrazione Del gameplay E Insomma Un audio buono Del microfono Tanto qua Urla la donzella Gli altri stanno facendo I generatori E non se ne fottono Proprio di me Stanno lasciando qui Crepare come Il survival Precedente Vediamo un pochettino Vediamo un pochettino E E niente Qua Sto a fare tutti i riti Qua per terra Come potete guardare Come potete vedere E gli altri No niente Non mi si filano proprio Giustamente Se riescono Manca a curare Tra dei loro Che mi posso aspettare Da Due deficienti Come quelli Cioè Mica se curano Tra dei loro Cioè Stanno aspettando La morte Perché uno si sta avvicinando Ma tanto Si sa che fine farà Ah però forse vogliono aiutarmi Non lo so Forse forse Decideranno Di aiutarmi Non lo so Oh Intanto una è stata Atterrata Oh Mi ha salvato 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 Vieni qua amico Alzate Non è l'ora di dormire Mi piace il coso là Non è ora Dai 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 Guarda che buon samaritano Quello mi ha salvato a me L'ha chiappato L'ha stesa Intanto la telecamera Qui meglio Meglio spegnerla Eh caro Però Sei un pezzo De fango Perché Io ti ho salvato Ma te Guarda che cacchio Mi hai fatto Guardalo Guardalo Ma scappa No Eh fai tunneling Dove posso andare Io Ci sarà Ragazzi Sta partita È andata Paper 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 De merda Proprio Se spegna informa Questi si fanno Ammazzare Come Come non so Cosa Mi hanno appeso P переп Arregge È andata così, è andata così. È stato un gameplay un po' atipico, non mi è piaciuto, sinceramente, ma è così. E ragazzi, qualora voleste rimanere in compagnia di me, di me medesimo, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate la partita. Qui intanto ho perso la goccia qua, come si chiama, la goccia Eiras, non ci sono arrivato. E niente, alla prossima. Ciao ragazzi!